Consigliere Patanelli, ieri sera è stata una seduta molto intensa, l'attività aspettiva ma anche alcuni temi importanti, fondamentali che sono stati al centro dell'attenzione. Innanzitutto le dimissioni politiche di Piero Mangano e poi ovviamente la questione connessa, strettamente connessa a questa dimissione, ovvero la gestione operativa dello stadio affidata al giarre calcio che è stato poi motivo anche di parecchie polemiche. Qual è il punto della situazione dal suo punto di vista? In via preliminare abbiamo chiesto al sindaco di dirci quello che era lo stato dei fatti della situazione di Mangano perché resta un dato politico importante. Mangano ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha accusato fortemente sia il segretario generale di ingerenza sia l'assessore vitale di ostruzionismo politico. Parliamo di un assessore che è stato colui che ha presentato la lista più forte della coalizione di Angelo Danna e quindi il sindaco deve prendere atto anche di queste dichiarazioni piuttosto forti. Mangano nelle sue dichiarazioni parla quasi di una tacita ammissione di fallimento dell'amministrazione comunale e parla di queste ingerenze che quando si verificano le ingerenze? Le ingerenze della burocrazia si verificano quando la politica è incapace di svolgere il proprio ruolo. Allora in quel caso subentra in via sostitutiva la burocrazia e il segretario. Quindi in un certo senso Mangano afferma che questa amministrazione non è stata capace di raggiungere alcun obiettivo, quindi prende atto di un vero e proprio fallimento gettando la spugna. Mi auguro che il sindaco a questo punto rifletta su questa situazione e cambi il modo di operare come azione amministrativa o faccia quello che ha fatto Mangano, cioè getta la spugna rendendo atto che non è capace di gestire il comune come si deve. E poi sullo stadio onestamente ritengo che ci sono diverse associazioni che devono essere in condizione di poter fruire tutte dello stadio e quindi dovrebbe farsi un bando nella maggiore trasparenza possibile. Dopodiché poi a parte questi interventi preliminari siamo passati poi a delle vere e proprie interrogazioni. Io mi sono soffermato sulla caserma a macchia sul fatto che anche lì c'è stata una procedura poco trasparente perché indubbiamente andava fatta questa perizia statica e sismica. Però la procedura eseguita a parere mio non è quella corretta perché si è iniziata con un bando pubblico ma poi di fatto si è concluso con un affidamento diretto senza dare la possibilità per esempio di un bando aperto a liberi professionisti che avrebbero consentito una riduzione dei costi con delle proposte a ribasso. E tra l'altro nel 2009 l'amministrazione Sodano fece una perizia similare a questa a costi ben più ridotti perché fatta di concerto con l'università di Catania. E poi ancora mi sono soffermato sul conto consuntivo perché ad oggi non si hanno alcune notizie su questo consuntivo. E poi ci siamo soffermati su quelli che sono i punti cardini all'ordine del giorno quindi strisce blu e rilascio delle autorizzazioni. Il primo è stato sollevato da me e Di Maria, quello sulle strisce blu, il secondo soltanto dal consigliere Di Maria ma tutta l'opposizione si è espressa su questi punti. Per quanto riguarda le strisce blu per esempio ho fatto notare come in passato coloro che adesso governano, il gruppo Città Viva, era tra i principali sostenitori di battaglie contro le strisce blu ma adesso supinamente hanno accettato la sentenza del TAR. Si poteva fare per esempio appello al CGA, cosa che non hanno fatto. Hanno trovato i soldi per costituirsi per gli avvocati per quanto concerne i ricorsi al TAR dei consiglieri non eletti ma in questo caso il sindaco ha preferito accettare passivamente il verdetto del TAR che ha portato a 105 stalle in più senza rispettare nemmeno determinate strade, adesso sono tutte blu sia da una che dall'altra gareggiata, il che non è possibile. Nello stesso tempo per quanto riguarda invece il rilascio di autorizzazione, tra l'altro va detto che adesso abbiamo un pool di legali quindi ho suggerito al sindaco anche di dare in carico a qualcuno di questi avvocati di studiare meglio la questione strisce blu per trovare magari qualche cavillo giuridico al fine di poter, anche se ci sono le condizioni, rescindere il contratto o perlomeno ridurre il potere contrattuale dell'aggiare parcheggi. E poi ci siamo soffermati sull'altro punto richiesto dal consigliere Di Maria riguardo il rilascio delle autorizzazioni allo scarico dove di fatto io ho chiesto, ma anche lo stesso Di Maria, anche Musumeci e tutta l'opposizione ho chiesto di avviare subito un tavolo tecnico per risolvere questo problema che sta portando a una vera e propria paralisi perché non vengono più rilasciate le autorizzazioni allo scarico. La legge laddove esiste la rete fognaria prevede l'obbligo di allacciarsi alla rete fognaria e non prevede la possibilità delle fosse settiche, è ragion per cui non rilasciando più queste autorizzazioni chi avvia un'attività commerciale di fatto poi si trova bloccato e ha fatto degli investimenti che probabilmente rimarranno persi.